Attualmente sono tre i contendenti alla presidenza del Libro Consorzio Comunale di Ragusa, ma le cose potrebbero ancora cambiare da un momento all'altro. Andando con ordine, è stato intanto pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali. L'assessore regionale alle autonomie locali, Bernadette Grasso, ha nominato l'ufficio elettorale, che risulta composto dal segretario generale del Comune di Vittoria, Valentino Pepe, nella qualità di presidente. Nonché dai segretari generali di Santa Croce, Camerina e Modica, Nadia Gruttadaura e Giampiero Bella, quali componenti. Le funzioni di segretario verranno invece espletate dal dirigente del Comune di Vittoria, Alessandro Basile. L'ufficio elettorale si inserirà nei prossimi giorni nella sede dell'ex provincia e sarà supportato dall'ufficio di staff della segreteria generale. Ma come è accennato, chi sarà il nuovo presidente del Libro Consorzio? Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 giugno e sottoscritte da almeno 25 a 20 diritto. In corsa vi sono il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, il sindaco di Modica, Ignazio Abate, e negli ultimi giorni per il PD anche il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in nome di un cartello politico di centro-sinistra che si rifà al movimento fondato in provincia dai sindaci di Pozzallo e Chiara Montegurfi e proprio Scicli. Il PD provinciale dovrebbe appoggiare la candidatura di Giannone, ma ancora nulla è da dare per sicuro, dato che le cose potrebbero cambiare nel corso del prossimo incontro, dove si potrà optare per un altro sindaco all'interno del movimento, altro sindaco che potrebbe essere quello di Pozzallo, ovvero Roberto Ammatuna. L'altro sarebbe Lino Giacquinta di Giaratana, ma di un comune troppo piccolo. Da valutare anche la posizione dei consiglieri del movimento, diventerà bellissima, del presidente Musumeci. Proprio loro stanno valutando, insieme al Movimento 5 Stelle, la possibilità di disertare il voto. Si voterà solo nella giornata di domenica 30 giugno e gli aventi diritto al voto in provincia di Ragusa sono 161, ovvero i sindaci e i consiglieri comunali degli 11 comuni della provincia di Ragusa. Il comune di Vittoria non andrà al voto perché attualmente la città è retta da una commissione straordinaria in quanto proprio il comune è stato sciolto per mafia lo scorso 31 luglio. Grazie a tutti.